Ami la posizione centrale del tuo nuovo appartamento? Ma c'è una cosa che ti disturba enormemente. Il rumore del traffico rimbomba tutta la notte. Il tram transita regolarmente nei pressi e nel fine settimana i festaioli si radunano davanti alla tua finestra? Dormire con le finestre aperte non è possibile, ma con le finestre chiuse fa troppo caldo e manca l'aria. Quindi cosa posso fare? Trasloco? Mi cerco una stanza d'albergo silenziosa? Ecco la soluzione perfetta. Con un impianto di ventilazione Comfort Zender hai aria fresca tutta la notte con le finestre chiuse. Goditi nottate silenziose e riposanti. Zender. Always the best climate. Grazie a tutti.